Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 168esima puntata del podcast di Marcos Box. Anche questa puntata, come potete vedere se mi seguite da YouTube, è una puntata video e c'è il mio bel faccino che vi tiene compagnia durante il commento delle notizie da uno dei software libero open source dell'ultima settimana, appena trascorso, perché in teoria è quello dell'ultima settimana, poi, come sapete, mi dilungo sempre. Sono un tipo poco affidabile sotto questo punto di vista, lo so. Questa puntata è anche una puntata video, perché sto vedendo che sta riscuotendo successo tra voi ascoltatori del podcast, ma anche visualizzatori del podcast su YouTube, e ho deciso di continuare con questo esperimento. La perfezionerò probabilmente in futuro, riuscirò a mettere fino a fine, metterò anche una sigla, la farò una cosa più fine. Abbiate fede e speranza nelle mie capacità. È soltanto che sono pigro e sono sommerso da lavoro, quindi ancora non mi dedico a migliorare il podcast video. Comunque, iniziamo questa puntata con una notizia riguardante il rilascio della versione 24.2 di LibreOffice Community. Direte voi, com'è il 24.2? Cioè, non eravamo fermi alla set? Che c'è stato un apocalisse? C'è stato un viaggio nel tempo? No, non c'è stato nessun viaggio nel tempo, ma è frutto questa nuova numerazione di una decisione che la Document Foundation ha deciso di prendere riguantando la numerazione di LibreOffice. Di questo me ne avevo già parlato diversi mesi fa, trovate traccia scritta sia sul blog che nelle puntate del podcast. e hanno deciso di cambiare la numerazione e questa nuova numerazione segue il corso dell'anno. In che senso? Come potete vedere questa qui si chiama 24.2, 24 perché è il 2024.2 e il mese di riferimento. Quindi adesso, a partire dal 2024, tutte le nuove versioni di LibreOffice saranno contraddistinte dalle prime due cifre riguardanti l'anno e la terza cifra riguardante il mese di rilascio. Perché hanno deciso di utilizzare questa nuova numerazione, questo nuovo modo di indicare versioni di LibreOffice perché secondo loro questo aiuterà gli utenti a mantenere aggiornata la propria installazione di LibreOffice in maniera più semplice. Boh, non lo so. Io l'aggiornavo lo stesso con la vecchia numerazione. Poi se l'avete installato normalmente, se siete utenti Linux a voi non vi frega niente. Poi diciamo che questa cosa qua magari può essere apprezzata dagli utenti Linux, ma nemmeno tanto. Non lo so perché hanno fatto questa cosa qua. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Ma anche perché fa più figo vedere i numeri così. Vabbè, comunque. Ah, forse, ecco, diciamo, forse così gli utenti si renderanno conto. Oddio, sto con una versione vecchissima, come se fosse che... Vabbè, io... Apri e chiudo parentesi. Non è che uno con la versione vecchia di LibreOffice di un anno ha così tanti stravolgimenti nella gestione. Il software, diciamo, che è quello ormai da diversi anni. Le migliorie che vengono implementate di volta in volta, come potete vedere anche da questo nuovo rilascio, sono migliorie che non riguardano l'utilizzo di tutti quanti gli utenti. Sono magari che vengono aggiunto a qualche cosa specifica per qualche tipologia di utente, però l'utente da Messico non se ne accorge nemmeno di queste migliorie. Non ci sono poi stravolgimenti da diverso tempo nell'interfaccia grafica e... Vabbè, se volete leggerevi tutte le novità di LibreOffice24.2 Community, trovate il change log sulle pagine del blog, che non vi sto qui a ripetere, a leggere tutto quanto, perché sarebbe una noia mortale. L'unica cosa degna di nota riguarda alcune ottimizzazioni che sono state fatte nella notebook bar con il miglioramento del menu, anche se... Io ve la faccio vedere, giusto che ci troviamo. Questa è l'interfaccia quella classica, out of the box, quando installate LibreOffice. Questa è l'interfaccia utente, la notebook bar, che ne so, questa qua applica tutto. Vi piace a voi un'interfaccia di questo tipo? Io lo so che questa è una cosa che io critico sempre aspramente di LibreOffice, però guardate, l'interfaccia anche con queste migliorie di questi layout aggiuntivi che sono stati aggiunti al LibreOffice nel corso degli anni, è sempre vecchiotto. Soprattutto poi, se la vedete qui su KDE, perché con il tema di KDE fa ancora più schifo. Vabbè, comunque, io di solito la tengo quella classica, che almeno oramai è una cosa a cui la trovo più intuitiva questa qua classica rispetto a tutte e quante le varie interfacce che hanno introdotto nel corso del tempo. Ma è stata rilasciata LibreOffice ed è stata rilasciata anche il suo concorrente open, semi-open virtuale. Insomma, è stata rilasciata anche la versione 8.0 di OnlyOffice Desktop Editor. E che cos'è OnlyOffice? È una suite d'ufficio, anche in questo caso, multiplattaforma, gratuita e chi più ne metta, che però ha, dalla sua, una interfaccia migliore rispetto a quella di LibreOffice, perché ha l'interfaccia, è un'interfaccia Ribbon. Adesso vi faccio vedere anche la comparazione tra le due interfacce. Vedete, ha un'interfaccia più carina, più, 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 più bella, visivamente. Questa Ribbon che è carina, da vedere, che molti utenti apprezzano anche su, su, su Microsoft Office, quindi, magari l'utente che si trova a installare, a installare LibreOffice, vede quell'interfaccia lì, dice, ma dire che si è tornato negli anni 90, mentre con OnlyOffice è un qualcosa di più carino, graficamente curato, che ti ricorda Microsoft Office. Fra l'altro, poi, a breve, sempre se riesco a recuperare quel file maledetto, verrà fatta sulle pagine del blog, troverete una comparativa tra LibreOffice, l'ultima versione di LibreOffice e l'ultima versione di OnlyOffice, nella gestione e nell'apertura dei file in formato proprietario. Nella fattispecie, io ho un file che utilizzavo nei vecchi confronti, era un file doc, che si sminchiava completamente con LibreOffice. Così faccio vedere un confronto, che cosa succede se aprite un file con formato proprietario con LibreOffice, e che cosa succede con OnlyOffice. Vi anticipo già da qui, spoiler. LibreOffice ha una migliore compatibilità con i formati proprietari Microsoft. E direte voi, sti cazzi, direte, che me ne frega? Se lavorate con qualcun altro che utilizza una suite proprietaria, che salva i file in formati proprietari, non potete dire sti cazzi, perché se lavorate avete bisogno dell'interoperabilità, e quindi avete bisogno di visualizzare lo stesso documento nella maniera corretta, sia da una parte che dall'altra. E a mio avviso, quello che dovrebbero spingere in termini di sviluppo, il tema di LibreOffice, è cercare di impegnarsi costantemente, costantemente di mantenere la compatibilità uno a uno con i formati proprietari Microsoft. Anche se, come dicono, alcuni mi hanno fatto notare in passato, dice, ma è una cosa difficile, perché c'è una documentazione tutta quanta sgangherata, e quant'altro. Però, è sotto gli occhi di tutti, se aprite lo stesso dock o dock X con LibreOffice, e lo aprite con LibreOffice, e vedete che LibreOffice ve lo visualizza meglio rispetto a LibreOffice. È un dato di fatto, è una cosa che vado ripetendo dagli anni, da anni, e tutti quando mi dicono, è vero, e poi scontrassi con la dura moletta. Voi, magari, lasciatemi un commento sulle pagine del blog, o in calce a questo video, su YouTube, con la vostra esperienza di compatibilità tra i file, in formati proprietari Microsoft aperti con suite libere. Comunque, anche per OnlyOffice Desktop Editor 8.0, trovate il changelog completo sulla pagina del blog. Non vi ripeto, non vi sto qui a leggere passo passo quello che è stato fatto, però, trovate tutto sul blog. E passiamo adesso, cambiamo decisamente argomento, e passiamo alle distribuzioni Linux, con una notizia, anzi, con il solito recap mensile, quello realizzato da Clement Lefebvre, spero di pronunciarlo bene, perché, visto la mia R francese, dovrei essere perfetto a pronunciarlo questo nome, che è un consueto recap dal mondo di Linux Mint, quindi lo sviluppo di Linux Mint, e soprattutto anche di Cinnamon, che è il patron di Linux Mint, realizza ogni fine mese. Con la fine di gennaio è arrivato il recap, con le ultime notizie, che sono notizie basilari, però sono notizie che vanno date. La prima notizia riguarda Linux Mint 20.03, l'ultima versione dello strumento di aggiornamento, che presenta i migliori eventi realmente della gestione dei pacchetti Orphanist, è stata sottoposta al backport su Linux Mint 20.03, quindi adesso, se avete una vecchia versione di Linux Mint, la 20.03, e volete aggiornare alla 21.3, che è l'ultima, potete farlo in maniera più semplice rispetto a prima, perché è stato effettuato il backport dello strumento di aggiornamento, anche sulle versioni quelle più vecchiotte di Linux Mint. Sono stati poi corretti diversi bug in Mint Stick, nello screensaver di Cinnamon e quant'altro. Ci sono poi notizie riguardanti Wayland. Gli sviluppatori di Linux Mint hanno scoperto che le sessioni Wayland di Linux Mint 20.03 avevano potenziali problemi con la sessione Xorg e hanno cercato di risolvere i problemi, stanno cercando, meglio, stanno cercando di risolvere il problema e ci tengono a ricordarci che tutto questo è sperimentale, quindi aspettatevi anche bug successivamente, però come consiglio che hanno dato agli utilizzatori della sessione Wayland è quello di se state sulla sessione Wayland e volete passare alla sessione Xorg non dovete fare un semplice logout, ma dovete proprio riavviare il sistema per evitare casini e quant'altro. Novità poi anche per quanto riguarda la versione Edge di Linux Mint 21.3 che è stata rilasciata con i kernel Linux 6.5 in questa ISO sono state risolte anche alcune regressioni come il supporto per loopback CFG e problemi che impedivano il supporto, il funzionamento su partizioni EFI quando cercavate di installare tramite Rufus. Ci sono poi novità che ci aspettano per la prossima versione di Linux Mint. Linux Mint 22 avrà come nome in codice Wilma e su internet dove ho postato il posto tutti quanti hanno fatto la solita battuta Wilma! passami la grava se non avete capito questa battuta siete giovani perché questa è una battuta da vecchio. Vabbè, l'edizione principale di Linux Mint 22 sarà ovviamente con Cinnamon e includerà il nuovo Nemo Action Organizer che è un strumento che ci consentirà di poter organizzare meglio le azioni di Nemo in menu e sotto menu. questo strumento supporterà anche i sottomenu annitati con i menu e quant'altro. Ed è una anzi è la prima prima la prima novità che ci viene spoilerata per quanto riguarda Cinnamon nella prossima versione di Cinnamon nella prossima versione di Linux Mint. Cosa ci aspetterà nei prossimi film? Lo scopriremo a fine a fine febbraio quando verrà realizzato il nuovo post di creamento che magari ci darà qualche anteprima su qualche altra nuova funzionalità di Linux Mint anche se soprattutto su Cinnamon non penso ci saranno grandi stravolgimenti. La cosa più grande che stanno facendo e a cui stanno lavorando in questo momento è la migrazione a Weyland o meglio il supporto a Weyland però sapete come sono quelli di Linux Mint vanno proprio con i piedi di piombo ci sguazzano pardonatemi la parola ci sguazzano nel vecchiume diciamoci però è una cosa che comunque piace a molti di voi quindi preferiscono che molti di voi preferiscono avere qualcosa di ben rodato anziché novitare una presto dall'altra e ci sta anche questa cosa qua se non siete malati come me di aggiornite preferite una cosa del genere passiamo adesso a Kubuntu che ha deciso di assumere la sviluppatrice Scarlet Gately Moore per chi non la conoscesse questa sviluppatrice ha l'attivo più di 11 anni di esperienze nel campo dello sviluppo software in particolar modo dello sviluppo di software libero open source ha contribuito a Debian ha contribuito a KDE KNE a Netrunner a Kubuntu in passato e anche al formato snaps ebbene Scarlet lavorerà per i prossimi tre mesi al rilascio di Ubuntu 24.04 LTS si occuperà della preparazione a Plasma 6 e vi dico anche una notizia che non ho postato sulle pagine del blog ma ve l'anticipo qui magari ci metto un link in calcio a questa notizia postata sul blog ovviamente Kubuntu 24.04 LTS non avrà Plasma 6 perché è stato annunciato proprio nelle scorsi quindi di default non lo troveremo però conoscendo il team di Kubuntu conoscendo anche le intenzioni che di solito perché quello lo fanno di solito fanno solo così di sicuro verrà aggiunto un PPA ufficiale tramite il quale voi aggiungendolo potrete passare a Plasma 6 al vostro rischio e pericolo ovviamente trattandosi di una LTS magari la gente vorrà stare su qualcosa di sicuro quindi la vecchia versione di Plasma io penso che Plasma 6 sarà sufficientemente stabile anche nelle prime versioni però ci sta ci sta che abbiano voluto mantenersi su qualcosa di stabile comunque come vi dicevo Scarlett la sviluppatrice Scarlett Gaitlil Moore è stata assunta anche per preparare la migrazione a Plasma 6 e infine è stata assunta anche per riportare in vita la distribuzione perché sappiamo Kubuntu in passato era una distro che era molto apprezzata dagli utenti io ero qualcuno di voi se lo ricorderà la mia vecchia incarnazione di Capitan Kubuntu io propinavo cercavo di suggerire suggerivo a tutti quanti l'installazione di Kubuntu poi c'è stato un periodo addirittura che ero diventato un fanboy di Netrunner però con l'uscita di KDN ho abbandonato Kubuntu anche perché Kubuntu nel corso del tempo ha iniziato diciamo così a seguire troppo le decisioni della distromade di Ubuntu quindi snap centrica anche la stessa cosa di proporre lo snap di Firefox cioè a mio avviso avrebbe potuto cercare di distinguersi almeno sotto questo punto di vista anche perché la gente quello chiedeva però no l'ha fatto ma vedremo vedremo che cosa farà Scarlet Gate Rimure quale sarà il suo zampino che cosa dove andrà diciamo così a mettere mano per cercare di portare in vita la distribuzione quali saranno le decisioni che cercherà di suggerire agli sviluppatori di Kubuntu comunque il suo primo compito all'interno di Kubuntu sarà quello di migrare l'installer di sistema Caramares perché Kubuntu finalmente ha deciso di adottare Caramares Caramares lo conoscete tutti quanti è un installer super carodato lo trovate su praticamente tutte le distro basate su Arch utilizzano Caramares è rodato è un installer che funziona funziona bene ha anche alcune opzioni particolari durante l'installazione che vi consentono di andare a personalizzare di fino l'installazione le partizioni e apprezzo questa scelta di Kubuntu e poi come ho ripetuto anche sul blog la sviluppatrice questa sviluppatrice è stata già coinvolta in altre migrazioni a Caramares quindi non dovrebbero esserci troppi intoppi per Kubuntu 24.04 vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi io faccio il tifo per Kubuntu che magari ritorna a essere una buona distro e parlando sempre di Dexop Environment c'è un nuovo articolo di Black Codec che è stato pubblicato fresco fresco questa mattina un giorno 7 se state seguendo questa puntata di podcast nel giorno della pubblicazione Black Codec è andato ad analizzare a comparare due Dexop Environment , leggeri e minimali per vedere se effettivamente possono calzare per l'uso di tutti i giorni i due Dexop Environment sono LXQT e LXDE e la macchina cioè il sistema operativo che è stato scelto come base è quello di l'ultima versione di Fedora ovvero Fedora 39 andatevi a leggere la sua comparativa andate a vedere tutte quante le sue considerazioni e fatemi sapere voi che cosa ne pensate è davvero una bella comparativa infine l'ultima notizia di questa puntata di questa 168esima puntata del podcast di Marcosbox riguarda l'arrivo del podcast di Marcosbox sulla piattaforma Castopod.it Castopod.it è una è una istanza italiana del progetto di podcast sociale della community di Mastodon.1 che è una delle istanze di di Mastodon e che va a raccogliere tutti quanti va a raccogliere una serie di podcast che potete ascoltare su questo su questo servizio offre anche la possibilità di hostare i propri podcast Marcosbox rimane per adesso su sul suo hosting podcaster quindi ex podcaster perché è l'ora di di Spotify a voi non cambia niente è soltanto un modo in più per seguire per seguire i podcast di Marcosbox se volete potete seguirlo anche dalla pagina di Castopod.it e interagire direttamente con commentando mettendo insomma share il tutto sulla rete sociale di Mastodon mi sono stati fatti diversi appunti riguardo questa scelta mi sono state fatte notare diverse cose su Mastodon.1 io sono estraneo a tutti questi a queste discussioni che ci sono all'interno della community di Mastodon io mi sono iscritto a Mastodon.1 semplicemente perché all'epoca mi sembrava quello più attivo vi sono anche diversi diversi influencer diciamo così che erano avevano un'istanza lì su Mastodon.1 e quindi mi sono accodato vi ripeto non seguo tutte le vicissitudine tra i vari tra i tra i istanze di Mastodon voi magari se avete qualche informazione in più lasciate un commento quindi comunque ringrazio castopod.it per avermi selezionato perché è una attualmente si accede tramite invito hanno reputato il mio blog degno di attenzione e hanno deciso di includermi anche su sull'euro piattaforma tra parte se gli ho creato anche una serie di problemi che non vi non vi immaginate perché non si riusciva a importare il podcast dal feed rss perché io come sapete io sono una calamita per i bug anche in questo caso ho portato bug anche su castopod hanno dovuto scomodare anche lo sviluppatore principale di castopod per cercare di capire lui aveva capito più o meno qual era la cosa anzi mi aveva detto che qual era la puntata specifica che causava problemi e ho indovinato un po' andando a mettere risolvere il problema come mi era stato suggerito dallo sviluppatore di castopod arriva lo stesso e ho dovuto cancellare il trailer del podcast di marcosbox perché se tengo attivo il trailer del podcast di marcosbox su podcaster si bug all'importazione quindi non funziona il caricamento delle puntate lo fa soltanto su castopod perché altre piattaforme se ne fregano altamente non lo so speriamo che lo sviluppatore di castopod riesca a trovare una soluzione per risolvere questo problema però per adesso ho dovuto togliere il trigger anche se non è che chissà che cosa era sto trigger è una sciocchezza che avevo registrato per i nuovi iscritti e vabbè penso di aver detto tutto anzi si ho detto tutto per adesso non ci sono altre notizie come sempre vi invito a seguirmi numerosi mi trovate sui social facebook x youtube mi trovate sui principali piattaforme di podcasting mi trovate sul mio profilo personale di linkedin mi trovate su masternome mi trovate su telegram dove sono attivo un canale telegram dove vengono postate le notizie la community telegram dove potete iscrivervi e commentare le notizie parlare di tutto quello che vi interessa perché non è una di quelle community dove si parla soltanto di linux ma potete parlare di tutto il cazzeggio libero trovate poi il canale telegram delle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei link referral link referral che trovate pubblicizzato anche sul blog dal pinguino con il cosino e infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando una VPN rinnovandola su nordvpn trovate sulle pagine del blog trovate in un bannerino ci cliccate da sopra e potete sfruttare la promozione del momento e acquistare la vostra VPN o rinnovare la VPN e supportare il blog di conseguenza perché viene data una piccola percentuale anche a me infine vi ricordo che vi lascio magari anche in descrizione mi stavo intorsando cosa io lo lascio anche in descrizione metterò anche il link referral qui sotto nel video su youtube quindi ci potete cliccare anche qua sotto che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo con la prossima puntata del podcast di marcosbox spero la prossima settimana e non vi preoccupate non mi sono dimenticato della questione della trascrizione della puntata che ho avuto casini quindi non ho avuto tempo di di applicarmi però vi giuro che arriverà vi risolverò tutto sicuro ciao ciao